Accendete una candela all'Urd, come segno di fede e di speranza. Attraverso questa luce siete invitati a portare nella vostra preghiera le vostre famiglie, i vostri cari, presenti o assenti, coloro che soffrono, coloro che hanno bisogno di conforto. All'Urd la Vergine Maria attira a sé tutti coloro che Gesù le offre, affinché abbiano la vita eterna. Accendete una candela all'Urd nel giorno di Pasqua. I fuochisti del santuario la posizioneranno per voi su www.lourd-france.com oppure sull'applicazione Pregare con Lourdes.